Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, rendere il mio cuore dolce, umile, paziente, verace, retto, caritatevole e puro come il vostro. Sostenete la mia debolezza. Aiutatemi nel praticare tutte le virtù, a me necessarie per poter piacervi. Non vi richiedo né ricchezza, né povertà, né salute, né infermità, né vita, né morte. Ma vi chiedo la grazia, di guidarmi in tutte queste varie posizioni. In modo di piacervi. Pigliatevi tutto quanto non volete che io goda. Tutto è vostro. Non solo perché siete il mio Dio. E il padrone assoluto della mia sorte. Ma ancora per libera elezione della mia volontà. La quale fa sì che io vi dica. Come al divino oggetto del mio amore. Pigliate da me tutto quanto vi pare. Io manco di lumi per discernere. Di generosità e delicatezza. Per sapere offrirvi quanto è mestieri. Ma spero dalla vostra infinita bontà. La grazia di starmi sommessa e paziente. Quando vi piacerà di togliermi tutte le contentezze. Sulle quali io faceva ancora conto. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debituri. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.